Scusate? Signora Concetta, andiamo in diretta televisiva tra 3, 2, 1... Buonasera e benvenuti alla telegermeica di Rai Grace. Oggi edizione straordinaria, uno scoop. Uno scoop che ha letteralmente sconcertato la beauty community mondiale. Dopo svariati test e ricerche nei laboratori cosmetici più rinomati del mondo, pare che sia stato finalmente formulato un primer per pelle grassa in grado di far durare il trucco per tutta la giornata. In questi giorni non si è parlato di altro, ma dopo l'applicazione demo, nonché dimostrazione, della beauty guru italiana Grace on your dash, le vendite sono schizzate alle stelle. Il primer in questione si chiama Photo Finish Iconic Primer Stick. Dov'è il primer? Quando Concetta dice che vuole le indicazioni del primer, tu gli dà le indicazioni del primer. Allora, è un primer effetto matte in un pratico formato in stick che controlla l'oleosità e l'effetto lucido per ben 12 ore. Ma che cos'è di speciale questo primer? Adesso lo vedremo insieme, dando la linea all'altro studio. Credo ci siano dei problemi con la nostra inviata. Comunque sì, questo primer è particolarmente indicato per pelle grassa. Ah, ecco, ci siamo, ci siamo con la nostra inviata che ha fatto un contenuto speciale per voi per farvi vedere la resa di questo primer. Do la linea all'altro studio. Eccoci qua, eccoci qua dagli studi Rai Grace di Roma. Sono qui per parlarvi di questo primer che sembra spopolare nelle ultime settimane tra i beauty guru più importanti della scena. Il primer dura 12 ore. Cos'altro posso dirvi di questo primer che va applicato sulla zona T, sulle guance e se avete la pelle mista o mista grassa io vi consiglio di stenderlo su tutto il perimetro, la superficie del vostro viso e di andarlo a sfumare con i nostri polpastrelli delle dita. Per il momento la beauty guru Grace on your dash non ha voluto rilasciare dichiarazioni però possiamo vedere un servizio che la vede protagonista. Qui è Susina inviata dagli studi Rai Grace di Roma e vi lascio al trailer. Ciao! 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 Bene, per ora è tutto. Vi ringrazio per la cortesa e attenzione e noi ci vediamo al prossimo collegamento. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.